Grazie a tutti Grazie di essere qua per la seconda edizione di questa Design Menapiano, direi che è stata una sfida l'anno scorso, eravamo molto titubanti, abbiamo voluto ripeterla grazie alla disponibilità della famiglia Scalori, siamo molto orgogliosi di essere qua e iniziamo in una maniera dirompente. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti